Attenzione sta per cominciare! K-Production! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi come potete vedere siamo su Nazi Zombie e stiamo provando una delle nuove mappe uscite da qualche mese che si chiama Clinic of Evil! Nazi Zombie, Clinic of Evil! Giocheremo da soli perché non siamo riusciti a giocare assieme ad un altro mio amico che purtroppo non so perché non ci trovavamo eccetera eccetera poi seppur in disconnesso abbiamo avuto problemi questo rumore che sentite sottofondo è il fono del cacchio che rompe le bones rompe le bones intanto gioco col controllo della Playstation 4 attenzione per la prima volta nella storia e funziona, attenzione! Da qualche parte in Francia le cose particolari di questa mappa questa mappa è stata creata basandosi su fotografie vere fotografie vere ragazzi intanto guardate guardate che bello vabbè il mare è un po' l'acqua è un po' spastica però guardate un po' qui c'è uno zombo ciao tu nasci e io ti ammazzo che bello questo gioco impara ad uccidere le versioni allora per ricaricare perché non ricarica non lo so qua sta l'MP5 al muro mille punti qui c'è una poltrona così se uno si vuole sedere per farsi ammazzare si può far sederla vediamo uno scoglio qua vediamo una porta da 750 la vediamo il sole il sole attenzione questo zombie c'ha già delle cose ficcate nella ecco ricarichiamo in slow motion mi raccomando attenzione uno zombie mummia questo viene dal film la mummia guardate ecco il collega dello zombie mummia le mummie non vengono mai da sole qua vediamo i salsicciotti di quel digino quello che fa il salomerino ha fatto i salsicciotti con i cadaveri possiamo ammirare la sua arte cadaverica intanto a questo spariamo la gamba non so perché perché non lo vogliamo far correre probabilmente qua ripariamo la finestra attenzione la torre di babele attenzione primo easter egg torre di babele babele il primo tipo che inventò le torri disse io voglio creare una cosa che voglio stare in alto voglio vedere tutte le persone e così creò la torre e questo tipo si chiamava babele quindi la torre di babele poi vabbè poi copiarono i babilonesi dissero ma facciamo pure noi una cosa simile perché vogliamo raggiungere Dio e poi sono preso in quel posto e vabbè qua intanto vediamo che questa bestemmiata in Aramaicon non so cosa ha detto qua gli zombie hanno gli occhi accesi ragazzi sapete perché hanno gli occhi accesi perché possono vedere al boia zombie proprio di ultima generazione intanto vediamo che i miei punti aumentano in maniera strana troppo velocemente comunque il tipo parla in inglese e non sappiamo nemmeno chi è non sappiamo nemmeno chi è intanto prendo le munizioni grazie Max Ammo sarebbe le munizioni di Max ecco sì Max Ammo va bene basta con farle puttana allora qua troviamo i bagni dove qualcuno guardate ha cagato per terra ha fatto quella macchia di merda qua qualcuno si è divertito a rompere le docce di 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 merda è tutto di merda diciamo così qui intanto qualcuno guardate hanno fatto lo schifo attenzione qua lo zombie che è appena uscito dal bagno l'ho visto e rubato ecco va a cagare e adesso apriamo magari ecco la porta guardate si è aperta in maniera attenzione in maniera naturale si è aperta la porta vediamo un po' lì intanto spariamo guardate c'è questa pistola l'enforcer intanto a questo l'abbiamo colpito qui abbiamo una porta da mille qui abbiamo una porta da non che non porta da nessuna parte qua troviamo l'albero così a caso alberi a caso qua vediamo il quadro di chissà che quadro è questo ma che che è l'inferno cos'è sta un tipo impiccato su una barca cos'è un castello con una un castello barca qua il numero 0 troviamo numero 0 sarà sicuramente qualche easter egg una porta 750 il tavolo da lavoro attenzione anche qui e magari apriamo questa porta vediamo ecco ghiaccio vabbè dice ghiaccio qui troviamo un materasso non so buttato forse lo dovevano lavare ma si sono dimenticati perché le donne delle polizie si grattavano un po' le balle ecco qua si collegava con qui praticamente qua troviamo un pezzo di qualche cosa lo prendiamo acid gut kit che ha tirato la granata col tasto centrale del controller si tirano le granate no vabbè è anche un metodo per tirare le granate vediamo un po' chi acid gut kit e zombie shield avete capito si possono fare tutte queste cose bella bella mamma mia mi hanno fatto spaventare questo vietato accendere con le sigarette gli esplosivi cosa strana cioè guarda non l'avrei mai detto qua intanto vediamo un vetro che non si può rompere qui vediamo uscita e dovrei pagare ma non voglio perché io sono tirchio qua 500 seconda chance seconda chance beviamo e il rottino in questo gioco si fa sempre il rottino come i bambini prendiamo qua ci troviamo una vasca qua troviamo il senso unico vabbè che poi non è vero perché si può andare anche da quest'altra parte poi che cazzo serve il senso unico mi dovete spiegare qui dentro un posto come questo cioè non è una strada amico comunque mo facciamo fuori questo qui ok ragazzi mi sono dimenticato solo di dare una coltellatina a quello perché così almeno facevamo i punti mille del pene allora vediamo se da dove verranno perché non abbiamo una minima idea beh oh da dove vengono ma quando vengono verranno tutti assieme e sarà una cosa spaventosa secondo me tiriamo una granata granata al gusto di granita mille punti mp5 k bellissimo guardate un po' come figo è figo figo il giocatore quello che prima era dell'inter bene spariamo a questo spariamo pure a questo non c'è la vibrazione peccato mi sarei divertito di più sentire la vibrazione delle armi aiuto ecco un extra comunitario ecco l'amico attenzione c'è questo tipo qui che corre è morto qui si può aprire 750 facciamo fuori questo facciamo fuori questi altri tiriamo fuori la pistola spariamo a cavolo alla testa alla testa alla testa alla testa il teschio quello di indiana jones adoro o l'ho mancato sciuata sciuata bellissimo quando c'è il teschio io faccio queste cose guardate giro giro tonda qua intanto vediamo qua intanto vediamo non vediamo niente non c'è niente praticamente e quindi ce ne andiamo a cagare no ok allora che cosa vogliamo aprire la porta del qua dai rumori sinistri o rumori destri dipende se voi siete di sinistro o di destra la politica la politica prima di tutto qui vediamo intanto la torre di Babel ok allora questo tipo è fissato con la torre di Babel sicuramente andrà sul sito babylon.it che non mi ricordo più che cazzo era era forse una cosa che c'entrava con gli hotel non so bene non mi ricordo più che cosa era babylon.it andate a vedere magari il sito babylon.it andate a vedere e poi sarà un tipo un sito porn una roba del genere no comunque ma non mi ricordo qua intanto troviamo che cos'è questo che cos'è questo quasi di cosa sia non me la fa prendere perché non me la fa prendere quella palla blu qua c'è un secchio non me la fa prendere qua intanto una fontana interna non so come perché le fontane esistono le fontane avete mai visto una fontana che sta dentro un posto chiuso io no forse c'è una fontana così grande no oh intanto qua facciamo spawn kill e che nascono e muoiono sto facendo tipo uccide i bambini appena nati i piccoli zombini che mettono i loro primi passi sulla terra intanto abbiamo fatto uno zoppino che bello aiuto aiuto ricarichiamo bellissimo questo mp5k la bomba non la prendiamo pensiamo ad aprire magari ecco oh oh che abbiamo qui pp19 qui invece una porta aspettate che eliminiamo questo grazie allora qui cosa abbiamo una scala che porta su dei tavoli delle librerie rotte una porta da 750 una porta che non porta una macchina da scrivere i salamini il separei i manichini a fare le porcate il vaso da notte vediamo un po i salamini di nuovo di bloc la chiave ha bisogno della chiave dove la troviamo la chiave boh ho visto un pezzo di cacca cadere da soffrire non so cosa dice questo drogato ma vabbè qua 750 andiamo appena di sopra vediamo oh ne per prendere la parte acid gat abbiamo preso la seconda parte me sono molto contento questa cosa qui ci stanno delle barrile strane ah quindi qui non si fa un pene vero? infermeria non si può andare in infermeria quindi dobbiamo morire se qualcuno viene in questo posto a curarsi ragazzi sappiate che sta una scala che non porta da nessuna porta questo non so perché ogni tanto parla una lingua strana qua troremo lelica cos'è no? ah no è un manichino che sta su pino sopra il comodino qui troviamo un muro sospetto vediamo beh che? no non è possibile sicuramente si fa saltare i nari in qualche maniera allora l'unica cosa che posso provare apro fuori scus che cos'è qua? meno male che era l'uscita ah e dove ci ha portato? c'è no vabbè ci ha riportato qua e che cosa abbiamo detto? ci grattiamo adesso abbiamo speso mille punti va a cacare qua c'è attenzione la zampa del re leone quella è la zampa che? che è questo quadro? vado le orecchiette le orecchiette stanno ci andrà tutto in tema barese anche se non sono di bari di bari andiamone il video sta durando tre anni credo suppongo c'era uno zombie che ci aveva tipo il bavaglio avete visto? in faccia cioè uno zombie imbavagliato tipo roba da prostituzione cioè ragazzi proprio hard qui intanto non sappiamo che cacchio fare che cosa devo fare? l'unica cosa che posso fare è aprire quella porta di che stava di qua si va giù? no vediamo un po' scendi le scaline attento e pi che? che cos'è? che cos'era? ho sentito un rumore che? che cos'è? il pianoforte ho suonato due note senza di spalle cioè avete mai visto suonare il pianoforte di spalle oh chi è? chi è? chi è? madonna che cosa? che cazzo? ci sono caduto ma che ma se il terremoto che cazzo? il terremoto c'è stato mi ha bloccato un attimo e poi mi hanno ucciso vai a cacare e ora devo andare a riprendere il quick revive ma che cazzo? 750 sicuramente in là si apre la corrente se te lontani troppo poi escono gli zoppi non ci sono più no scusatemi ma devo risalire come faccio adesso? si e facciamo un'altra routine era un ruttone è un ruttone questo ah e qua stiamo messi male ah e mo? e mo? ci prendiamo l'arma nuova? l'arma che ho visto prima? proviamo ormai non abbiamo nient'altro da fare prendiamo la mano grazie 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 beh bravo poi si verai che è fatta allora munizione doppi doppi così qua doppi punti cerchiamo di profittarne fino a quanto possiamo che è quest'arma? credevo che fosse un fucile a pompa invece non lo è di là si sale su di qua si apre la corrente si che cosa è questo posto? ma qua c'è un pulsante io guardate non ho non vorrei che non vorrei che qui stia sei chiuso no 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 750 apri 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 dove siamo andati? uh la cassa uh guardate un po' guardate un po' adesso le cose iniziano a farsi interessanti pianoforti forse bisogna suonarli tutti ehi uno zoppo veloce cioè gli zoppi veloci stanno su tutto gioco uh terremoto vado ragazzi questa pappa sembra essere fatta veramente da uno di quelli della della triage anzi forse è meglio di quelli della triage vai a vedere queste si che erano le mappe fatte con lo stile di Call of Duty Black Ops non incasinato come Black Ops 2 o Black Ops 3 che a me non piace granché eh cioè troppo incasinate come mappe star egg troppo assurdi secondo me eh così qua c'è un cancello con una sorta di serratura qua ci sono macchine rotte munizioni nelle saurimè 1250 qui che l'Olimpia qui sicuramente vengono gli zombie facciamo una cassa e vediamo da cassone che cos'è RFB che è questo RFB per aprire la porta 1250 ma qua si ritorna dove stavamo noi è così giusto qua attenzione c'è un pulsante qui si apre no strano davo per scondato che vediamo che cosa abbiamo aperto prima qua sta chiusa vediamo che cosa abbiamo aperto prima allora 2050 qui c'è palesemente qualche cosa per prendere la parte dove? ehi possiamo costruire l'AcidGut kit però senza AcidGut come facciamo? che è questo cosa? aramaico non fa niente questa mappa è veramente un mistero e questo muro così? boh le orecchiette i salamini questa è la mappa preferita di quelli che mangiano tanto orecchiette e salamini dipende anche dal gusto del salamino intanto attenzione non abbiamo visto il Juggernaug dov'è? e ti pareva chissà dove lo saranno andati a mettere i bastardi anzi il bastardo il creatore di questa mappa è un tipo solo se non mi ricordo male poi bisogna andare a vedere comunque caro mio per me questa mappa è da 10 ahimè full effetto del terremoto non so come cazzo hai fatto ma è bellissima sta mappa è proprio bella mi piace mi piace no no andava tutto bene poi arrivano i figli di puttana brutus ma che cazzo brutus brutus cattivo e quando arriva lui non c'è più il divertimento brutus come faccio a sconfiggerti figlio di puttana terminato? no gli ho fatto saltarinare il casco l'assicurazione è quella che si metta la macchina il casco aiuto vado stavo incastrato la bomba la bomba ah giusto brutus è immune brutus 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 vado tutti i colpi in testa sono non muore il bastardo non ce la farò mai a ricaricare ma che cazzo no mamma mia brutus 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 andate a cacare andate a cacare andate a cacare che vi venga la diarrea in cola che cos'è cos'è uscito cos'è uscito cos'è uscito il teschio il teschio brutus è immune pure a questo si è immune il figlio di puttana brutus questo è l'unico modo per giocare sta mappa girare i gondi mazzi brutus brutus sei proprio un brutto guarda oh è morto eh che cacchio vai a cacare per favore cos'è cos'ha lasciato cos'ha lasciato cioè è morto e non ha dato niente no non ho visto mannaggia non faccio la cassa vediamo magari ci esce l'acid gat il gatto acido che cos'è mi irons mi irons che è mi irons vediamo ma che è l'ultimo questo pom ah ho capito ma non dovrebbe essere niente di che questa pistola no no la usp ma io non ci credo che cioè guardate è a prendere per il culo è a prendere per il culo è a prendere per il culo senti prenditi sta granata oh l'abbiamo fatto lo zopo mamma mia quanti colpi dove siamo che cosa è sto a posto ah siamo tornati qui quindi la clinica è tutta torna attorno qui intanto zero boh oh io sono convinto che sta palla serva a qualche cazzo di cosa oh ne 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 aspetta si è mossa vediamo dove vai dove è andata che forte questa cosa mi piace vediamo mamma mia che genio che genio quello che ha creato questa mano vediamo che forte che la colpisce poi che fa oh mi ha rotto il muro per prendere no no madonna mia no 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 abbiamo raccolto la schifezza che stava da dentro madonna madonna mia madonna ah questo spara due può sparare due colpi che schiiiimo proprio me la devo togliere mamma mia e come faccio ad ucciderla questo lurido bastarda hai messo un altro brutus come se io non fosse abbastanza uno eh e chissà se sta un round speciale quando arrivo arrivo a dieci chissà mamma mia ragazzi è difficile è proprio difficile non se ne viene manco qua la merda di ricarica come faccio scusa no è impossibile devo trovare un'arma non si può mi dispiace ne 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 qualcosa di decente veloce 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 togliti sta cazza di cacca ma no 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 taglite quell'elmo gliel'abbiamo tolto l'elmo e lui intanto fa come gli occhi cioè rutta mentre cammina si muore bastarda non ha rilasciato niente guardate come è morto proprio come manco fosse Gesù Cristo sulla croce beh dove che era non mi ricordo più era di qua che cosa abbiamo fatto che cosa abbiamo fatto costa 250 che è sto posto e che ne facciamo a motivo quella cosa che abbiamo preso si metterà da qualche porta qualche cosa immagino praticamente noi adesso dobbiamo ad un dobbiamo andare a suonare un piano che mi ero dimenticato c'è un piano da qualche parte qui devo guardare bene c'è un piano da suonare eccolo ecco beh si è rotto qualcosa e credo che la cosa che si sia rotta era quella porta che stava laggiù che per arrivare bisognava andare di qua giù giù ancora andare qui ecco ecco perché non riuscivo ooooh elettricità electric cherry ooooh vedi che ora iniziamo a ragionare qui c'è una vecchia non lo so stazione di un treno rotto tutto rotto qui in ogni caso qua ha la chiave figlia di puttana costa zero oh oh alleluia alleluia pezzo dello scudo vai i pezzi dello scudo saranno tutti qua numero due come possiamo vedere ci sarà sicuramente un ordine abbiamo visto che stava il numero zero pure e qui c'è una porta che possiamo tra l'altro pure aprire vedete adesso si ragiona veramente adesso abbiamo accesso a tutto questo zombie qui che rompa le scatrille qua c'è pure l'ascensore tutto c'è c'è tutto su stava c'è pure l'ascensore c'è pure l'ascensore mi hai rotto lei palla vai piano di sopra cosa c'è immagino immagino comunque che i pezzi dello scudo staranno qui nelle vicinanze qui c'è una porta ed ecco loro che vengono uno dietro l'altro perché loro sono questo è un buon posto dove stare mi vengono solo davanti questo così erano le mappe di una volta chi è chi è chi è da dove è uscito questo da dove è uscito questo che è da dove viene da dove che viene ah bastardo apriamo oh che strana stanza si continua ah invece pure che cazzo vediamo un po' dove ci conduce oh quasi sta chiuso il tetto no non ci credo no c'è l'aereo ci sono le sedie come su come sulla mappa quella di Alcatraz quella ufficiale ma non si può usare o si no sarebbe troppo assurdo beh scusate ma devo fare una cassa le munizioni finiscono subito PDRC non la conosco quanto durerà se trovo il blundergat meglio non so cos'è ma è sicuramente meglio ACR si è meglio è meglio questo devo dire che è buona quest'arma che ho io adesso vediamo la CR vorrei cercare di utilizzare il meno possibile il meno possibile le le munizioni magari vediamo tiriamo una granata 1 2 3 boom vediamo e la banda degli zoppi la banda degli zoppi zoppi ben guardateli la banda degli zoppi uno più brutto dell'altro ma erano sono gli ultimi questi forse ma faccio pure doppi punti perfetto io so questo metodo per poter accoltellare senza farlo a fondo così perfetto avete visto come abbiamo risolto bene questo problema ora diamoci da fare per fare quello che stavamo facendo uno di quattro l'ordine può essere casuale sarà casuale immagino sì è casuale l'ordine questo ascensore cosa succede vediamo si va giù dove va dove va l'ho usato ma per fare cosa vediamo che cos'è 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 questo posto coltello boi intanto al muro oh che posto strano qua arriva uno zombo siamo proprio sotto altre orecchiette qui giù si apre 750 che cazzo ma no questa mappa è grandissima qui c'è il numero 3 non si può schiacciare vediamo un po' delle porte ehi double tap si sale pbsh al muro oh e qui che è questo posto non è l'ultimo non è l'ultimo questo mi ricorda tanto si apre ancora ma 1910 qua chissà cosa c'è qua dietro però là c'è il pbsh non posso non giocare col chi è chi è no no voglio sperare che che là sopra quella stanza qualsiasi cosa sia qua dietro oh madonna è un posto chiuso madonna no 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 non so nemmeno io come ci sto riuscendo che fa con la trappola che fa con la trappola questo bastardo perché ce lo vigila perché la trappola non funziona che ma no 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 vabbè brutus non è come gli altri zombie cioè lui mi viene addosso anche mentre sono morto e poi appena sono salito vabbè ragazzi allora diamo i voti a questa mappa grafica grafica diciamo 10 difficoltà diciamo 7 gameplay secondo me c'è molto di più su questa mappa metto 9 e mezzo va bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e ci rivediamo ad un prossimo video